L'annuncio è stato un legislatore visionario, che è la forza dei legislatori, perché la soluzione pratica dei problemi viene applicata dai tecnici, ma sono i politici, i pensatori che aprono la strada. La Carta del Carnaro ha rotto con il periodo precedente, che era finito, era finito con la Prima Guerra Mondiale e ha aperto a tutto il Novecento. Io sono convinto che oggi la Carta del Carnaro nei principi generali sia assolutamente ancora moderna, ma che il problema è che oggi occorrerebbe un'altra Carta del Carnaro che apra, che non venga applicata, ma che apra una visione a un futuro dei prossimi cento anni, perché il mondo è totalmente cambiato come era cambiato dopo la fine della Prima Guerra Mondiale.